Ciao ragazzi, anch'io sarò nella giuria della XFootball, un nuovo talent creato apposta per voi. Vi aspetto, aspetto i vostri video, vi giudicherò soprattutto per la qualità, tecnica ovviamente, l'inventiva che potete avere nelle vostre skills e niente, non vedo l'ora di vedere i vostri video, analizzarli e decretare il migliore. In bocca al lupo a tutti da Fausto Rossi, calciatore della Reggiana.